Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti nuovamente sul mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche in questo modo rimarrete aggiornati su tutte le novità che pubblicherò oggi torno nuovamente a dedicare questo video a un tutorial su amazon perché voglio spiegarvi una cosa che può tornarvi veramente utile quando si fa un ordine ovvero la possibilità di ricevere l'ordine che abbiamo fatto su amazon non all'indirizzo di casa ma ad un punto di ritiro come per esempio un amazon locker o una cartoleria questo metodo può dare dei vantaggi veramente enormi e ve lo voglio spiegare con una cosa che mi è capitata a me personalmente qualche anno fa quando ero in vacanza con la famiglia e avevo dietro il cane avevo la necessità di acquistare una nuova pettorina per il cane e non sapevo come fare chiaramente c'erano i negozi fisici di animali andai a vedere e a provare la pettorina su un negozio fisico quindi la provai sul cane quindi scelsi taglia e colore ma costava veramente un'esagerazione molto di più rispetto allo stesso modello che avevo visto su amazon però chiaramente ero in vacanza e non avevo la possibilità di farmelo spedire a casa perché ero a centinaia di chilometri da casa quindi ho scelto la possibilità di farmi spedire il prodotto in un punto di ritiro nel mio caso era una tabaccheria ma oggi vi farò vedere come si imposta come indirizzo di spedizione un amazon locker che cos'è un amazon locker l'amazon locker non è nient'altro che un mobile di tanti box di amazon dove i corrieri che portano il prodotto vanno a mettere il pacchetto dentro uno di questi box e a voi vi arriva chiaramente un'email con un codice di sblocco per aprire la porta del locker e quindi ritirare il prodotto stesso dal momento in cui ricevete la mail avete tempo tre giorni per poter ritirare il prodotto dopodiché il corriere passerà nuovamente a ritirare il prodotto e a voi verrà rimborsato l'ordine stesso e questo se permettete è un vantaggio veramente enorme perché vi dà la possibilità di andare a ritirare il prodotto quando voi potete per esempio a fine giornata lavorativa per cui se non siete fisicamente in casa per ricevere il pacco direttamente dal corriere al vostro indirizzo vi consiglio di salvarvi questo video o meglio di condividerlo perché può tornare utile a tante persone io vi faccio vedere come si imposta l'indirizzo di un locker di amazon direttamente dal pc però una volta impostato l'indirizzo dell'amazon locker vi ritroverete lo stesso indirizzo anche nell'applicazione smartphone di amazon si può fare anche da lì però è leggermente più complicato quindi io preferisco farvi il tutorial direttamente dal pc la prima cosa da fare è aprire un browser web del vostro pc io uso tipicamente chrome e andare sul sito di amazon dopodiché ci si va a loggare nella sezione account e si va a cliccare in alto a destra sul proprio nome quindi account e liste e andiamo a cliccare sul mio account vi appare questa pagina con diverse icone ci serve ovviamente la sezione indirizzi e ci clicchiamo sopra vi appariranno tutti gli indirizzi di spedizione che avete impostato se ne possono impostare anche più di uno perché potete fare l'ordine e spedire il prodotto ad altre persone e come si può intuire abbiamo la sezione aggiungi indirizzo quindi dovremo cliccare su aggiungi indirizzo ci clicchiamo sopra e vi dà la possibilità chiaramente di impostare un indirizzo fisico alternativo rispetto al vostro indirizzo di spedizione ma non è la cosa che vogliamo fare oggi oppure qui in alto sotto aggiungi un nuovo indirizzo trova un punto di ritiro amazon vicino a te quindi andiamo a cliccare lì e come si può vedere appare la mappa dei punti di ritiro sulla base della geolocalizzazione della vostra connessione internet qui sulla sinistra ci sono tutti i tipi di punti di ritiro non solo gli amazon locker ma ci sono anche le cartolerie, le tabaccherie che possono funzionare da punto di ritiro ma chiaramente se la tabaccheria o le poste sono chiuse non potete ritirare il prodotto la cosa veramente più vantaggiosa è di andare a selezionare come punto di ritiro l'amazon locker che ci consentirà di andarlo a ritirare h24 andando a cliccare sui punti indicati sulla mappa 9, 11, 10 vedete cosa si fa? cliccando sul 10 vi dice che tipo di punto di ritiro è in questo caso io ho cliccato poste, punto poste, tabaccheria oppure viceversa se io clicco sull'11 sull'indirizzo a sinistra mi fa vedere dove è localizzato sulla mappa un'altra cosa interessante è che io la mappa se ci clicco sopra la posso spostare oppure molto più semplicemente con la rotellina del mouse posso ingrandirla e rimpicciolirla una volta che abbiamo trovato l'amazon locker più vicino a noi per esempio il numero 13 vedete se io clicco 13 sulla mappa lui mi va a selezionare direttamente il locker che ho scelto quello più comodo e a cui io mi posso rivolgere in qualsiasi momento della giornata ovviamente dopo che il sito amazon ci avrà mandato la mail di consegna al locker stesso quindi una volta identificato il locker per esempio il numero 13 ci clicchiamo sopra aggiungi alla rubrica e l'indirizzo del locker si andrà ad aggiungere ai vostri indirizzi predefiniti di pedizione adesso vi voglio far vedere come questa procedura che abbiamo fatto automaticamente si riflette nell'applicazione amazon del vostro smartphone come potete vedere una volta aperta se andiamo in alto nella sezione indirizzi vedete c'è la freccettina che vi fa aprire ci andiamo a cliccare sopra in basso vi appariranno gli indirizzi impostati che sono gli stessi del sito amazon se voi scorrete la lista come si può ben vedere c'è il locker che abbiamo impostato dal sito amazon e quindi lo possiamo utilizzare direttamente da smartphone come indirizzo come indirizzo predefinito di spedizione di un qualsiasi acquisto direttamente sul locker stesso e adesso andremo a simulare l'acquisto direttamente da smartphone sull'amazon locker così almeno vi renderete conto quanto è facile acquistare su amazon e spedire al proprio amazon locker preferito ovviamente questo si può fare non solo quando siete a casa ma lo potete fare in qualsiasi parte d'italia d'europa del mondo se vi serve un qualcosa ve lo fate spedire al locker più vicino al posto in cui vi trovate non vi ho detto una cosa veramente importante questa procedura di spedizione all'amazon locker può essere eseguita esclusivamente con prodotti spediti direttamente da amazon non si può fare la spedizione al locker se andate ad acquistare oggetti che sono venduti e spediti da venditori terzi dovete acquistare un prodotto obbligatoriamente spedito da amazon adesso apriamo l'applicazione di amazon sullo smartphone e andiamo a simulare l'acquisto io generalmente i prodotti che voglio acquistare e spediti direttamente da amazon non li acquisto subito li metto nel cestino e li salvo nella lista per dopo vedete per esempio io ho messo nella sezione salva per dopo questo caffè che è spedito da amazon infatti c'è il logo prime direttamente alla base del prodotto lo vado a spostare nel cestino posso regolare le quantità cioè se ne voglio acquistare una, due o tre lo posso rimuovere una volta fatto questo clicco su procedi all'ordine il sito ovviamente ci chiede se voglio acquistare altra roba non ci interessa clicco direttamente procedi al checkout vi fa vedere la lista degli acquisti con eventuali sconti di buoni regalo mi raccomando qui state attenti cliccate su modifica indirizzo di consegna e vi andrà ad apparire la lista di tutti gli indirizzi che avete impostato direttamente dal sito di amazon clicco su mostra altri indirizzi e come per magia vedete si evidenzia l'amazon locker io lo scelgo ci clicco sopra e vado a cliccare consegna a questo indirizzo e sono a posto praticamente perché il prodotto è stato acquistato e gli è stato detto all'applicazione di amazon in consegna ad amazon locker ci retta con l'indirizzo di consegna io non vado oltre perché ovviamente acquistando ora il prodotto mi andrebbe ad addebitare il costo sulla mia carta di credito quindi non faccio l'acquisto ma voi ovviamente andate avanti e cliccate su acquista ora mi raccomando ricordatevi che dovete aspettare la mail di amazon che il prodotto è disponibile a ritiro all'amazon locker sulla mail c'è un codice particolare che serve per aprire lo sportello una volta ricevuta la mail dal corriere di amazon nella mail avete due opzioni o l'inserimento del codice all'amazon locker quindi un pin o un QR code lo sportello si apre con entrambe le metodiche però io per la prima volta vi consiglio semplicemente l'inserimento del pin cioè voi andate al locker c'è proprio una tastiera con tutti i numeri digitate direttamente il pin trovato sulla mail e lo sportello si apre automaticamente una volta ritirato il prodotto e chiuso lo sportello per amazon il prodotto è ritirato e voi automaticamente riceverete una seconda mail che vi informerà che il prodotto è stato ritirato io non ho altre cose da dirvi perché questo è tutto è veramente più facile a farlo che a spiegarlo però comunque se avete dei dubbi per qualsiasi motivo scrivetemelo sotto nei commenti io sarò disponibilissimo a darvi qualsiasi chiarimento bene se questo video vi è stato utile mi raccomando condividetelo su tutti i social perché altre persone potrebbero trarne vantaggio da questo tutorial su amazon se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mi raccomando iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche e mi raccomando spolliciate gente io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao